Raccontare anegoti particolari, poi c'è stato appunto questo... Vende di più un libro, se vi racconti... Certo, per quello lo sto facendo. Questo è il carico, appunto, a Venezia, probabilmente se oggi dovessi rifarla, la rifarei in maniera completamente diversa. Aveva ragione, probabilmente, la curatrice di quest'anno, lo scrive, io di così maledico le scrivo, a lavorare su un trozzo. E' il 2009, magari, c'è proprio un altro momento. Non lo so, però se di fatto, insomma, rivedere il Padiglione Italia quest'anno... Certo, noi venivamo dopo la sparizione del Padiglione Italia e la riduzione che ne fece Ida Gianelli a solo due artisti. Noi, onestamente, era sembrato, forse giusto, rimettere un po' più al centro della binare dell'arte italiana. Tra l'altro, secondo me, in menzione è quella di Daniel Birbaum, che non passerà la storia con il brillantezio, se passerà quella di Gioni, la storia di Ricola, forse questa, per certi versi, ma non certo quella di Birbaum. in cui riuscimmo a sollevare un discreto cuore di Lerone. E, ovviamente, nei mesi che hanno anticipato, no, l'inaugurazione della mostra, sono stati due volte a trovare Gignatelli in studio. E questo è un po' il suo metodo, che siamo partiti da un punto A e siamo arrivati da tutta altra parte. Perché è dinamico. Ma, più che altro, secondo me, la cosa interessante del suo lavoro, che non lo ritengo un nostalgico, è che lui davvero avrebbe potuto tranquillamente andare con tre grandi quadroni di repettorio, dove lui riesce bene, gli richiedono anche, spesso, sono quelli che gli riconoscono il poggiare, gli sentono, gli dice, fammi inquadri con le teste, fammi inquadri con le battaglie che si vengono, non lo dice così. In realtà, che cosa ha fatto? Che ha preferito rischiare, ha preferito lavorare su soggetti quasi del tutto nuovi, introducendo anche dei materiali, però le completamente nuove. Infatti, di quel lavoro lì, rispetto ad altri scelzi, insieme a Buscaroli, per quella edizione del Parino d'Italia, devo dire che a Rallunga, secondo me, è stato un lavoro che si è attenuto, e tra l'altro credo che tutti si è attenuto anche questo lavoro, o almeno fino a un po' di tempo fa, stavo in studio, nel senso che davvero, lo riteniamo forse entrambi in un passo così, significativo, all'interno di un percorso, dove certamente sia lui che io abbiamo fatto anche cose più importanti, forse anche cose che ci hanno rappresentato di più, certamente una grande mostra personale, tra l'altro è più soddisfacente, però è con quel momento direi che, tra l'altro, lì andando a citare, per virgolette, l'episodio, ovviamente non la forma, della battaglia di Lepato, del premio alla pittura, di una signora della pittura a 6 uomini, è come se davvero lui avessi riconosciuto, diceva prima pronomaca, una sorta di matrizio del solato. Basta. Ecco, perché, quindi, tu continui a sperimentare e l'unica cosa che non hai mai sperimentato è un foglio bianco, una tela bianca nuova di pappa. Una tela bianca nuova di pappa? Mai. Ma no. Sarebbe un inedito pazzesco. Un po' insensazionale. Ma perché? Ora va qui, vero. Te lo spiego. Ecco. Te lo spiego. Te lo spiego. La, la, diciamo, avvicinarsi a una, a una tela nel proprio studio, soprattutto nel periodo in cui io iniziavo, era l'85, significava mettere alla prova tutto. Perché la tela... Però ancora oggi tu non vai nella tela bianca. Ma io sono ormai andato a una tela bianca perché io ho cercato di superare l'errore. Io immaginavo una dimensione appunto amando molto alcuni disegnatori straordinari come Pontolmo, come Pisanello, come un disegno degli antichi, ma anche proprio con la composizione così perfettamente nella testa, senza gli strumenti della pittura, per esempio, anche al carico. Penso anche, io guardavo giorni fa, un'immagine della grotta di Rescò che sembra veramente già un corridoio quasi rinascimentale. Cioè c'è questa meravigliosa intenzione di tracciare dentro degli ambienti anche naturali, quindi sghempi, comunque quasi organici, non rettilinei in cui siamo abituati da qualche secolo all'architettura, con una grande forza e con solo un grande istinto e una volontà di tracciare. Ecco, questo è il bianco, me lo toglierò completamente. Poi all'università io riempivo dei fogli per degli esami che duravano delle giornate intere. Era l'esame di Battisti, il nipote però del grande eugenio dello storico dell'arte, che ci faceva fare un foglio riquadrato in 40 quadretti e in ognuno andava fatto un tipo di tracciato con un rapidografico che era quindi a mano una bella che era la sala dell'inchiostro. Si arrivava alla fine poi c'era il teneo che giravi con il voluto e era tutto da buttare in mano. Oppure il bottone che ti delude quando stai uscendo anche per andare a fare la spesa e si stacca dall'impermettere. Io tengo tutto il pezzo volto e quindi avevo iniziato a rovesciare le tele che era una pratica che usavo molto per esempio Frances Beckham e anziché usare la tela di lino frontale che poi prendevo dal studio di mio padre che è stato il mio polpificio per tanti anni non dava un paese e uscivo carico di materiale giravo la tela e preparavo un tanto delle bianche nei colori scuri per i piedi di sopra. Questo perché? Perché secondo me è molto importante che il supporto sia già in grado di per me interagire con la sostanza con quello che vuole. Si spiega una lettera a mano? Io per esempio ho paura di essere mi accorto adesso di essere stato un importante dislessico nel senso che la mia pelligrafia non è volutamente quella ma io aggiungo una lettera in corsivo dopo due di stampatello una in caratteri capitali romani a una invece che non riesco a riconoscere e questo l'ho molto avvicinato anche alla mia fatica propria nella lettura dei romanzi per esempio preferisco leggere i saggi o preferisco comunque cercare di organizzare dei pensieri che abbiano una possibilità di offerti un tempo per quello che non penso e poi lasciare infatti non finisce mai niente non finisco mai niente non ho finito nemmeno l'università ho dato 30 esami non attesi e questo non finito per me ha molto condizionato il mio lavoro tanto è vero che quando da giovanissimo andavo in ufficio a vedere la traduzione dei magi che è un quadro che Leonardo interrompe per venire a Milano a lavorare a Castello se il tuo non finito ho letto nel libro che tu da piccolo e riassessionato dal grembionino obbligatorio in blu per andare a scuola con i chiocchi stretti sul corpo ah questo è del nostro colloquio di lavoro brava questo è il tuo non finito fa parte del ma quello è un momento particolarissimo il terzo elementare era il 1968 si passava da un'Italia post-verbica ancora di destra a invece una rivoluzione dottorale che poi ha cambiato il mondo noi uscivamo marciando con il giovenero e il farfallino dalla scuola c'era il preside sulla sinistra il doppio petto e dava un segnale si rompevano le righe e si correva fuori in quella scuola che è al Parco Ravizza che è la Vignola di Milano pochi mesi fa andando a vedere il monumento per l'uccisione di Franceschi che è stato messo allo Bocconi che è quella bellissima straordinaria pressa che penso sia stata messa nel 1971 o comunque qualche anno dopo già da allora e che era quello che Andorossi suggeriva come nuovi monumenti per la città vivendo una città legante di Milano dovrebbe avere degli elementi dell'industria invece che tante sculture anche molto brutte che circolano più recento ma in quel periodo il cambiamento era talmente radicale dal punto di vista esistenziale mio che io stavo già decidendo molte cose e il mio modo di rapportarmi per esempio con lo studio e con la ricerca è iniziato in quei momenti proprio delle scuole elementari però solo su quello che decidivano di fare un'interessare che interessava particolarmente a me nel pochi anni dopo ma non voglio fare un'autobiografia partendo dagli asili come quando si vittano le diapositive da compiato in tre anni andai in un'altra scuola dove ero compagno di classe di Giovanni Panzer e figli di Panzer di più e noi tutti i weekend andavamo alla villa che adesso del FAI che è la villa di Tavarese e quindi c'era questa immersione totale in mezzo ai lavori che arrivava puntualmente una sera aiutando il conte ad appendere 30 lavori di Franz Klein che erano dei lavori meravigliosi giganteschi che puzzavano ancora d'olio perché arrivavano da New York ed erano bianchi e neri e poi c'era Rauschenberg e poi c'erano i minimalisti californiani e quindi noi bambini quando non si parlava da nessuna parte di quel tipo di arte a meno che non fosse un discorso fatto per quelle nicchie di appassionati ed esperti eravamo continuamente a contatto con questa realtà io sono sicuro di aver arreddato molto da quel momento poi in combinazione con Obi Rauschen quando mio padre fuori a biannale nel 78 invitato da Luigi Carruccio e quella sera parlammo ma io ero con un ragazzino e lui mi fece uno scritto su una scatola di fiammiferi e io ho tornato a casa a Milano prese una cassetta delle scarpe e cincollai dentro quattro cose e sentì questa forte attrazione che ricorda le scatole di sappia di cartone di una sappia la satano in un lavoro che si riferiva a tutto un mondo che aveva a che fare quasi più nulla diciamo con l'accademia e ho sentito questa perdita di stacco in quel momento